Referendum chiesto dell'Election Day il 22 ottobre, si voti oltre che per l'autonomia del Veneto, anche per la separazione Venezia-Mestre, la richiesta è dei comitati promotori. Cuoco, 22enne originario di Marghera, muore in casa a Vicenza, disposta all'autopsia per chiarire le cause del decesso, sentiti i sei amici che vivevano con lui e non si sono accolti di nulla. Continua la querella tra la Lega e l'assessore da Villa, il partito ne chiede le dimissioni, ma lei sembra non voler andare via. Il North of Limits agli estranei, porte chiuse anche al Presidente della Commissione Parlamentare Attività Produttive Epifani, al deputato più dimoniato, l'ira del sindaco Mestri Nair. Igor, il killer di Budrivo, avvistato a Porto Gruaro, la sua pericolosità fa temere il peggio, la gente ha paura, ma la Polizia Municipale cerca di tranquillizzare. Partecipata assemblea nel quartiere Pertini, residenti arrabbiati, si sentono abbandonati dall'amministrazione e invitano il primo cittadino a fare un giro l'avione. Nuova prova piena di insidie per la Reier, che aspetta al Talierci un Varese imbattuto in piena forma. L'invito di coach di Raffaele ai tifosi, sosteneteci. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Venezia. In apertura alla richiesta di Election Day per il referendum dell'autonomia del Veneto e quello della separazione tra Venezia e Mestre, richiesta che arriva dai comitati promotori di quest'ultimo. Il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia si celebra il 22 ottobre insieme a quello sull'autonomia del Veneto. L'appello è del leader dei separatisti veneziani, Marco Citran, cui fa eco il mestrino Stefano Chiaromanni. Se il referendum venisse fatto in Election Day ci sarebbe un grosso risparmio perché costerebbe esclusivamente per il costo delle spese per la stampa delle schede elettorali. La stampa delle schede elettorali verrebbe a costare circa 7.000 euro. Ma la questione, riconosce Chiaromanni, non è solo economica. Tra il tema dell'autonomia del Veneto rispetto all'Italia e quello dell'autonomia di Mestre rispetto a Venezia c'è un'evidente analogia. Vorremmo dare veramente una grande occasione di autonomia e di libertà per quanto riguarda i cittadini per decidere il loro futuro. Così come l'autonomia del Veneto porterà un risparmio, così i mestrini vorranno dire la loro anche su questa questione. I mestrini sono stanchi di pagare le tasse come se vivessero in piazza San Marco. Contro il referendum sull'autonomia del Veneto si schiera invece il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Barretta. Io quello che temo soprattutto è che si illuda i Veneti nel senso che dietro il referendum cosa c'è? C'è l'idea di una San Marino dal nord e questo sarebbe sbagliato. Noi abbiamo una delle regioni più importanti d'Europa. Il Veneto deve decidere, deve chiedere di contare di più a Roma, non di separarsi da Roma. L'unico modo per ottenere davvero autonomia, sostiene Barretta, è attraverso una trattativa col governo che si è già dimostrato disponibile. Il messaggio viene dato ai cittadini è votate questo perché il risultato sarà che avremo più autonomia. Ma quale tipo di autonomia? La stessa che si può ottenere con un negoziato. E proprio il referendum sulla separazione tra maestro e Venezia è all'origine della crisi all'interno della maggioranza nella giunta Brugnaro, crisi di cui continuiamo a darvi conto. La direzione provinciale della Lega Nord ha votato all'unanimità la sfiducia all'assessore veneziano al commercio Francesca Davilla. Se resterà in giunta, allarga le braccia, il segretario Sergio Vallotto non sarà più un assessore della Lega e rappresenterà soltanto se stessa. La diretta interessata preferisce non rilasciare dichiarazioni ma lascia intendere di non avere alcuna intenzione di dimettersi. La palla passa ora al sindaco Luigi Brugnaro che dovrà decidere se ritirare le deleghe alla Davilla per compiacere il sempre meno fedele alleato leghista e nominare il quarto assessore al commercio in meno di due anni oppure lasciare le cose come stanno. La seconda ipotesi appare decisamente più probabile. Davilla si troverebbe quindi a rimanere in giunta con le mani libere dalla Lega, la cui rappresentanza nel governo della città sarebbe ridotta sostanzialmente a zero. Dal momento che l'altro assessore in quota al carroccio, la vice sindaca Luciana Colle, da mesi non si fa vedere alle riunioni di partito. Niente da dire per quanto riguarda le sue competenze, la sua professionalità, è una bravissima assessore però in realtà non interfacciandosi con il partito io non penso che faccia parte della quota Lega. Nonostante questo i leghisti sembrano tutt'altro che intenzionati a uscire dalla maggioranza dando vita a una crisi politica che inevitabilmente si rifletterebbe sulle alleanze dei molti comuni al voto l'11 giugno. La giunta è una squadra tecnica basata e nominata dal sindaco sulla fiducia del sindaco quindi le due cose non devono essere fuse assieme, quindi la Lega è quella del Consiglio Comunale. A pagare per questo caos interno alla maggioranza è tutta la città, sostiene intanto il capogruppo PD in Consiglio Comunale Andrea Ferrazzi e in particolare il settore del commercio che già di suo sta vivendo una crisi profonda. È evidente che le questioni interne degli altri partiti, se riguardano i partiti della maggioranza, se la vede la maggioranza ma la ricaduta è certamente quello che a noi interessa, è sull'amministrazione della città che anche in questo settore è bloccata di fatto. Tragica e misteriosa fine per un giovanissimo cuoco di Marghera a Vicenza. Era sul letto, sembrava dormisse e invece stava lottando fra la vita e la morte ad appena 22 anni. Mauro Deppieri, cuoco di Marghera che abitava a Vicenza, era già in condizioni disperate e in pochi minuti se n'è andato. Un vero e proprio giallo attorno al decesso del ragazzo trovato agonizzante all'alba di oggi nella sua camera in un appartamento di Viale San Lazzano nel capoluogo Berico. Un giallo sul quale indaga la polizia, arrivata stamane sul posto assieme ai sanitari del SUEM, chiamati da una coinquilina in lacrime attorno alle 6. Soltanto due ore prima, l'ultima istantanea, postata dal ragazzo sul suo profilo Facebook, sulla spalla, un pappagallino. Poco dopo sarebbe iniziato il dramma. Quando i medici sono entrati nella stanza, Mauro era già in condizioni gravissime e i tentativi di rianimarlo purtroppo sono stati tutti inutili. Morto sotto gli occhi degli amici, sei in tutto, che si trovavano in casa stamane al momento della tragedia. Sei coetanei che in queste ore vengono sentite dagli inquirenti per ricostruire cosa sia accaduto tra la scorsa notte e stamane. Cosa può aver provocato il malore che l'ha stroncato? La procura disporrà l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso, un esame dal quale, oltre alle testimonianze dei presenti, potrebbe emergere la verità su un dramma che ha scioccato un gruppo di giovanissimi e distrutto una famiglia veneziana con la più terribile delle notizie. Alla Ilnor di Scorzè negato l'ingresso a due parlamentari, tra cui l'ex segretario generale della CGL Epifani e questo ha scatenato, oltre che le proteste dei lavoratori, anche l'ira del sindaco Mestrinero. Stabilimento della Ilnor off-limits anche per il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Incredibile scivolone della proprietà dell'azienda di Gardigiano di Scorzè che ha chiuso i cancelli in faccia a Guglielmo Epifani, l'ex numero uno della CGL e oggi deputato e rappresentante del governo. Assieme a Epifani è rimasto fuori anche il sindaco, Giovanni Battista Mestrinero. Infuriato, il primo cittadino di Scorzè ha stigmatizzato il comportamento della proprietà, la eredi ignuti di Brescia, definendolo vergognoso per la mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni. Fuori con Epifani e Mestrinero i lavoratori con le rappresentanze sindacali. Trovare soluzioni alternative e questo è quello che noi chiediamo anche a te, visto che sei il presidente della Commissione per quanto riguarda la Camera dei Deputati e le attività produttive, di intervenire con il governo. Uno stabilimento storico del genere non può chiudere, ha detto Epifani e i lavoratori in sciopero. Il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera conosce la situazione della Ilnor, la cui proprietà ha deciso di spostare la produzione di laminati in Lombardia, determinando il rischio di esuberi di 100 lavoratori in territorio veneziano. Il presidente della Commissione Attività Produttive si è impegnato a riferire i contenuti dell'incontro odierno al ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda entro la prossima settimana. La strada moglianese è stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza fino al termine degli interventi. Si moltiplicano gli avvistamenti sul litorale veneziano di Igor, il killer di Budrio. L'appello però è anche a non farsi suggestionare, a non intasare i centralini delle forze dell'ordine con segnalazioni pittoresche che non sempre corrispondono a verità. Lo cercano ovunque, lo inseguono ormai da giorni e giorni, ma Igor, pluriomicida, sembra introvabile. Un camaleonte capace di mimetizzarsi e di nascondersi. Ormai da una decina di giorni tutte le forze dell'ordine sono in allerta. Sono numerose le segnalazioni di avvistamento del serbo in terra veneziana. Cittadini che potrebbero averlo visto o che pensano di averlo riconosciuto. Da Caorle a Sanstino, da Chioggia a Portogruaro, il centralino delle forze dell'ordine nelle ultime ore ha squillato parecchie volte. I vigili a San Donà ci mostrano la foto segnaletica di Igor appesa e visibile. Avevamo avuto segnalazioni già dieci giorni fa dai colleghi del comando di Venezia che ci hanno mandato anche la foto segnaletica. Però fino a questo momento segnalazioni particolari qui da noi non ne abbiamo mai avute. Comunque la guardia rimane alta, è una persona pericolosa, altamente pericolosa, quindi anche voi rimanete in allerta. Sì, rimaniamo in allerta. La certezza è che centinaia fra carabinieri e polizia sono sulle tracce di Igor. Certo è che fra la gente rimane alta la preoccupazione. La preoccupazione, presumo ci sia, anche perché i fatti sono avvenuti a poco più di 100 km da noi e oltretutto questa persona, essendo così croato-sloveno, è chiaro che se tenta di rientrare in patria per forza di cose deve passare più o meno da queste parti. Speriamo lo prendano presto, dice una signora, una persona come questa non ha nulla da perdere. Indubbiamente non è facile neanche trovarlo, visto che si sa nascondere molto bene, addestratto ed è una persona che non ha certi scrupoli nel farsi strada avrà sicuramente qualcuno che lo aiuta. C'è molta paura e questo sì. Sta girando qua ecco, avrei paura soprattutto come mamma e nei riguardi delle ragazze giovani. C'è paura? Sì, sì, sempre di più. Quello lì adesso si sta divertendo perché sta prendendo in giro tutti, è furbissimo e conosce tutte le tecniche. Ogni segnalazione che arriva ai centrali viene comunque presa in considerazione e valutata attentamente per non sottovalutare nulla. La caccia all'uomo continua. La centrale operativa della Polizia Municipale di Venezia ha reso noto che da questo pomeriggio l'impianto dello stabilimento Versalis di Porto Marghera è stato riallineato all'assetto di marcia normale. Nelle prossime ore potranno comunque verificarsi brevi e sporadiche accensioni delle torce di sicurezza di Fusina. Quindi niente panico se doveste vedere le torce accese, non si tratta di un nuovo incidente. E adesso andiamo, anzi torniamo nel rione Pertini dove le rimostranze della popolazione hanno portato a un invito al sindaco Brugnaro di recarsi di persona sul posto e di toccare con mano quali sono le condizioni di quel quartiere. Tutti in piazzetta della vergogna per un confronto sui mali che segnano il quartiere Pertini. Sono i residenti di diversi moduli abitativi stanchi della situazione di abbandono in cui verse il loro quartiere e delle continue occupazioni. C'è tanto degrado nel senso che il comune non contribuisce più a niente, non fa più niente. No, no, ci sono tante case chiuse, in muratura e così dicono che non le possono affittare. Con un appartamento grande e interno, dando il comune, con una macchia d'acqua che mi viene sempre. E' biazza che sta a assogare. Non si è permesso perché mi pago i soldini a fine mese. Assemblea partecipata dove anziani e giovani si sono ritrovati uniti per stigmatizzare il degrado e la mancanza cronica di servizi, peraltro denunciati a più riprese. Degrado, chiama degrado perché guarda hanno rotto tutti gli scalini e purtroppo qui ose la gente che... Non solo denuncia, però il confronto ha portato anche ad una serie di proposte che saranno presto portate all'attenzione dell'amministrazione comunale. E noi tra 15 giorni avremo un incontro con la commissione del comune, ordine del giorno, quartiere Pertini, in cui porteremo delle proposte concrete. Se l'amministrazione comunale risulta latitante, dalla municipalità viene tesa una mano. E' importante che il comitato lavori assieme alla municipalità, che è un organo istituzionale, che è poi il primo step di collegamento tra i cittadini e l'amministrazione. L'incontro pubblico è stata anche l'occasione per una raccolta firme per riuscire a portare il servizio di autobus di nuovo in quartiere. Allora, nel quartiere alle 9 di sera di domenica non ci sono più autobus per andare a Venezia e tornare da Venezia. Abbiamo ragazzi che lavorano a Venezia e dobbiamo andare a prenderli perché non so se non sanno come venire a casa. È giorno lavorativo, alle 10.10 c'è l'ultimo autobus. Al sindaco Brugnaro chiedono di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale e gli fanno un invito. Gli chiederei anche di venire a fare un giro direttamente a piedi, magari dentro il quartiere, per toccare con mano la situazione. E ci spostiamo davvero di pochi metri per andare al liceo Stefanini, dove un durissimo provvedimento è stato preso contro i due rappresentanti di istituto responsabili dell'occupazione dello scorso 4 marzo. Abbiamo sentito che cosa ne pensano i loro compagni. Ha scelto di sospenderli come deterrente, tanto per fare un po' di psicologia, un po' di strozzarci le ali nella testa e dirci non fate queste cagate, non ci interessa niente di voi. Cioè proprio per dirci faccio quello che voglio, vi punisco in modo tale che questo sia deterrente per tutti. Non ci sono mezzi termini, né da una parte né dall'altra. Il rapporto studenti e presse del liceo Stefanini con gli ultimi fatti e la presa di posizione della stessa sembrano ai fari corti. 15 giorni di sospensione in prima istanza per due rappresentanti degli studenti, poi ridotta a 10 giorni, più lavori socialmente utili. In questi casi non si ripete in altre scuole. Cioè se vai in un'altra scuola, in un caso in cui c'è un'occupazione, che entrano gli studenti perché non è che una scuola viene occupata da due alunni, occupano una scuola e la scuola rimane chiusa. A scatenare le irie e le occupazioni del 2 marzo diventate quasi una sorta di tradizione che avviene in tutti gli istituti mestrini. Di fatto il dialogo con la presa è da tempo interrotto e a dare il colpo di grazia si sono giunte le aule fredde, la non adesione alla settimana dello sport, ma anche l'ingresso fisso per tutti e oltre mille studenti alle 8.05, con conseguenti code e ritardi per il passaggio del badge elettronico negli appositi totem, posizioni e decisioni della preside che hanno portato gli studenti all'occupazione. È stata una risposta estrema ma comunque adeguata a quello che ci ha fatto la preside a noi come studenti. Non c'è dialogo minimamente. Ma no, ma viene anche rifiutato c'è il dialogo. Magari cerchiamo anche di avere un minimo di dialogo, ma viene comunque rifiutato. All'obiezione della preside che vi sono stati danni per l'occupazione, i ragazzi replicano decisi. Sono stati danni relativamente, sono stati anche ricoperti poi da una colletta che è stata riconsegnata attraverso fondi alla scuola, però in misura minore rispetto a quello che sono successi in altre scuole che la si c'era da metterci veramente una mano sulla coscienza. Cominciamo a conoscere i candidati sindaci del nostro territorio e partiamo da Santa Maria di Sala e dal Partito Democratico. Perché sei campanili non funzionano più. Ci vuole un'unica regia per ripartire tutti insieme. Abbattere i campanili, unire le frazioni. Giuliana Andrello mette al centro del suo programma elettorale per Santa Maria di Sala il territorio per dialogare con la società civile. Santa Maria di Sala è un comune che è stato chiuso. In un momento in cui si aprono delle prospettive e delle attività anche di collaborazione, secondo me questo può venire meglio. 53 anni coniugata, Giuliana Andrello vive a Caltana di Santa Maria di Sala e vanta un'esperienza trentennale nei ruoli dirigenziali in aziende del settore infrastrutture viarie. Oggi l'apertura ufficiale della sede elettorale in piazzetta salvo d'acquisto. Al battesimo anche il sottosegretario all'economia Pierpaolo Barretta, intervenuto a sostegno della lista civica insieme che raggruppa le anime del PD e di possibile di Pippo Civati. Il progetto per questo comune è quello di far ripartire l'economia e dare i servizi alla cittadinanza, ma dei servizi che siano più efficienti ed adeguati a quelle che sono le nuove esigenze. Novità sulla pulizia degli archi del Ponte della Libertà, tema importante di cui vi davamo conto nel telegiornale di ieri. Entro l'estate i primi archi sotto il Ponte della Libertà dovrebbero essere liberati dai detriti che hanno quasi diviso in due la laguna di Venezia. Sarebbe questa la volontà dichiarata al gazzettino dal presidente del provveditorato interregionale alle opere pubbliche ai consiglieri comunali del gruppo Misto, Renzo Scarpe e Ottavio Serena. In prima battuta l'intervento dovrebbe essere eseguito da Rete Ferroviaria Italiana che ha competenza sul ponte ferroviario. Successivamente le operazioni dovrebbero allargarsi anche alla sezione stradale, parte della quale è responsabile Veneto Strade. Ad essere liberati saranno gli archi più trafficati anche per diminuire la stagnazione della laguna davanti a San Giuliano che si sta lentamente trasformando in terraferma. Come ogni fine settimana è il momento dello sport della nostra tantissima Humana Reyer. Troviamo una squadra in fiducia, guerrita, che verrà per fare il risultato come è giusto che sia. È una squadra molto atletica. A tre giornate dalla fine del campionato, ennesima partita difficile per l'Umana Reyer di coach Walter De Raffaele, reduce dalla vittoria il Cardiopalma sul Brescia, che ha garantito il secondo posto in classifica. Importante per continuare a mantenere uno dei primi quattro posti in classifica, visto che non sono ancora decise le posizioni, per quanto uno possa dargli più o meno valore. La settimana è stata come sempre difficile, quindi per De Raffaele si tratta di reinventare un assetto diverso della squadra in campo. Sarà una partita di sacrificio nella quale avremo assolutamente bisogno dell'aiuto del nostro pubblico, perché è la prima di queste altre partite, poi partiremo per Tenerife, quindi tante cose da sistemare, e quindi chiediamo veramente una spinta dal pubblico. Varese è una delle squadre più in forma del campionato, ed è reduce da sette vittorie nelle ultime otto. Le chance meritate per i play-off ci sono tutte. Questa sera alle 21.05 al termine dei nostri telegiornali andrà in onda il film Salvate il Gredi Lady, domani invece dalle 9 di mattina il Santo Rosario, poi a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa del Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, alle 14.15 De Formazione Nord-Est, alle 14.30 la TV dei Ragazzi, alle 17.45 Agricoltura Veneta, alle 20.05 Videomotori. Il Tg di Venezia termina qui, vi lasciamo alle previsioni meteo, buona serata, buona domenica a tutti. Le previsioni per domani, schiarite si alterneranno a nuvolosità irregolare più frequente e consistente nel pomeriggio in montagna, dove non si esclude qualche locale per precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo, in quota 20 moderati tesi da nord-ovest, in pianura ventilazione moderata dai quadranti orientali.